La carità non avrà mai fine. Con un richiamo alla prima lettera ai Corinzi, nell'aula del Sinodo in Vaticano, si è tenuto un convegno dedicato alle prospettive aperte a dieci anni della sua pubblicazione dall'enciclica di Papa Benedetto XVI Deus Caritas Est, un documento in forte continuità con l'attuale Magisterio di Papa Francesco sulla misericordia. Tra i partecipanti al convegno, il filosofo Fabrice Ajadi, uno degli intellettuali di punta del pensiero cattolico nel panorama mondiale odierno. Questo mistero, diciamo così, dell'amore e della bellezza che ferisce in profondità, che tocca in profondità, chiede all'uomo essenzialmente adorazione, possiamo dire, non cattura dell'altro. Ecco, forse questa è anche la via di salvezza per una certa cultura dove, mi pare, una riduzione dell'eros porta poi a una sorta di ripiegamento e di tristezza di fondo. La realtà della nostra epoca è che non siamo in un'epoca erotica, siamo piuttosto in un'epoca che è pornografica o eventualmente di un qualche tipo di romanticismo. La pornografia è più per gli uomini e il romanticismo è più per le donne, le giovani donne, ma non è eros, non è la verità dell'eros. E dunque la nostra non è un'epoca di celebrazione della sessualità, è un'epoca di odio della sessualità. Noi detestiamo la sessualità. Noi vogliamo ridurre la sessualità a un atto consumistico, di fuga dinanzi all'angoscia della morte. La sessualità cos'è? È la celebrazione della vita, è l'apertura alla vita e oggi noi che facciamo? Il contrario, la fuga davanti all'angoscia della morte. si vede bene che la pornografia non è la sessualità, non c'è la carne, sono delle immagini, non c'è l'altro, è solo un fantasma. Dunque non ha niente a che vedere. La commedia romantica americana non è l'eros perché l'eros suppone qualcosa che ha del dramma, dramma della fedeltà all'altro che dura e poi anche dramma della nascita, perché io dono la vita e è questa la grande novità della nostra epoca. Oggi troviamo la Chiesa, un po' come nei primi tempi quando si lottò contro l'ognosticismo, ma la Chiesa oggi, lei che porta la spiritualità, lei che parla di soprannaturale, si ritrova a difendere il naturale e si ritrova a difendere il sesso. Giovanni Paolo II scrive, tra i suoi ascoltatori si parla di teologia del corpo, ma lui dice, quello che sto facendo è una teologia del sesso. Dunque è davvero sbalorditivo. La nostra epoca è talmente persa nel virtuale, nella distruzione della natura, che ormai è dentro la Chiesa, dentro il soprannaturale che la carne, il sesso e la natura sono difese.